Salve a tutti ragazzi sono Doom98 e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Fallout 4 con la facecam ripristinata e abbiamo un death row da pigliare a calci sembra un po una cosa brutta da dire perché in realtà dovrebbe essere lui che prende a calci meno eccolo so già dov'è sta qui scappa 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 mettiamoci qui eccolo allora cosa fare prendiamo un fucile a doppia canna iniziamo a buttare le cose i colpi pesanti addosso mamma mia mostruoso siamo un po troppo lontani che feriglia testa aspettiamo che si avvicini sempre di più ok non troppo perché se no ok non abbiamo bisogno neanche di stitch ah una volta si ok ecco adesso si andrà ok preso e non avendo più munizioni ah no quanti c'è no 29 ok colpiamo con la pistola ragazzi sembra una stronzata è come andare a combattere con un coltellino da burro no 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 ci sei ci sei ok 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 dai così madonna mi fa proprio impressionante perché te ne vai di là ritorna ma che stai facendo oddio ma che cazzo è ha lanciato la macchina addosso oh mio dio vieni qua che c'è paura guardalo vieni qua ma che pezzo di merda allora ho anche una pistola artigianale con tantissimi colpi fa sicuramente meno danni dell'altra però c'ho 200 colpi quindi mi conviene no salvataggio rapido ecco vediamo un po' in terza persona eccolo mannaggia la miseria corri 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 fatti il giro della ruota ok ci siamo iniziamo a sparare a raffica dai è quasi morto quasi morto dai 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 ecco se ne sta andando al bastardo no no non chiede andare dove cacchio vai è possibile sono io che devo avere paura di lui guarda qua quante norme guardalo ma che stai facendo vieni qui perché stai così lontano ok scappa scappa ci siamo ci siamo ci siamo ok posso oddio hai visto ho fatto uno scatto dai quasi morto su continua a buttare roba oddio per fortuna c'è anche la macchina che l'ha bloccato quasi morto quasi morto e questo lo terminiamo con una bella cosa in spo in spad ok questa è la cosa più brutta si addio è morto il deathclaw è morto il deathclaw prendiamo come il sonaglietto carne deathclaw mano il sonaglietto va bene contento abbiamo un sonaglietto adesso dove devo andare ritornare indietro fai rapporto a presto se invece continuassi ad esplorare questa magnifica città e quale cazzo è oh abbiamo delle fogne bene cioè non lo so se sarà cosa ci troveremo qui siamo in questa sottospecie di fogne nulla a dire pennello dove stava il pennello prendiamolo magari dipingiamo un po nella nostra avventura cos'è sto coso mireluc ahia il mireluc non ricordo è abbastanza inattivo vediamo anche pelle di bramino e andiamo qui abbiamo queste fogne sbaglio sento qualcosa oh ratto d'alta muori oh non sta per morire ah cacchio 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 in testa dai qua madonna hai la mina di un olè muori no che pale farsi anneggiare dai dai ratti è proprio una cazzata facciano pure i soldi muori ok vediamo carne pelle di ratto d'alpa non fanno un cavolo di danno ho appena scoperto che il death clone ha fatto 20 danno o 40 danno con una manata episodio precedente tremendo ragazzi con la facecam forse c'è qualche perdita di frame devo cambiare assolutamente questa scheda video madonna basta non mi si fulmina come quella di zeb 89 cosa merda sei millucca guscio mo perché sono tentato di andarmene e scappare oh santo dio no ma perché siamo in è una cimice enorme diciamo sto scappando come un quando ne abbiamo uno ok uno ne basta basta e perché oddio ma che schifo me lo ricordavo diverso cioè tipo un granchio misto una cimice madonna è inquietante ah tra l'altro anche uno scarafaggio che cade dal cielo che caglioni stanno lottando e adesso è proprio morto scarafaggio tu muori hai capito oddio no oddio uccidetelo col fuoco io scappo ciao continuo a sparare da qui questa mistola farà un po' cagare però almeno ci abbiamo un po' cazzo ho fatto il giro corri 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 madonna che schifo ma cosa sei cosa vabbè vediamo quello con l'81 per cento questo il guscio non ne facciamo nulla guarda che bella c'è anche il pilasso davanti a parte i cani che abbaiano molto scenografici non è non fa parte del gioco ma fanno parte dei vicini mortacci loro cani madonna che palle ancora quel che sta cimice senti io non l'ammazzerò e io sto coso non l'ammazzo ho fatto un bel saltino che riduce tanto hai danni nella caduta ridotti madonna zittite sto mostro energia esaurita come energia esaurita e come l'ammazzo il mini rook ok visto che siamo avventi quella merda ma muori no oddio ho fatto malissimo ho 16 danni ecco adesso fa il giro e non posso correre oddio no vabbè ciao addio c'è stata fatta no sta risalendo le fiambre questo mostro no 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 madonna che abominio devo uscire di qui ti hai premuto E per uscire прибio sta facendo malissimo sto coso aia via via ti hai premuto E Oddio Mi sono fatto uccidere Da una cimice enorme Un costaccio schifoso Eh La musica che arriva in ritardo Fuggi 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 Sento che sta strisciando dietro di me E muori Mannaggia la puttana Oh Successo Ecco si è buggato Grande Bethesda I suoi bug Ma vai a cagare muori Ecco rimani là Io faccio un giletto tra i pilastri Oh colpo critico Che cazzo è successo È quasi morto Non posso morire Allora ci abbiamo quasi fatto A ammazzare questo gabinetto vivente Prendiamo un buffo Qualcosa che Rallenta il tempo per 10 secondi Eh Prendiamo Bello Due steampack E uno Sai Con resistenza di danni del 25% Spacca tutto È impazzito Maledetto il gabinetto portatile Mamma mia Cosa ti combino Giuro Mi sta dicendo davvero un cazzare È troppo di Difficilissimo Prendiamo una pistoletta schifosa Quasi morto Quasi morto Quasi morto Gabinetto Quasi morto Gabinetto Madonna Carre di mire È stato terribile Non farò mai più Aspetta però Possiamo andare all'altra parte Dato che il gabinetto è morto Andiamo proprio alla velocità della luce Mettendo qui prende un Radaway e un Tatos E poi c'è questo che tiene le bombe di zucchero Uno scheletro Che carino Ma quanto cacchio è che avventiamo di livello Che voglio un'abilità Ok Stiamo messi male Io l'armatura La lascei In un posto Di cui mi Ricordo Dove cacchio siamo Vabbè La lascio Qui Ecco il nostro Purtroppo Siamo dovuti uscire da qui Ma almeno possiamo correre Non solo ci sono death clone Neanche ho fatto aumento di livello Va bene Ehi È stato Uno spettacolo incredibile Sono lieto che tu sia dalla nostra parte Sono quasi morto È colpa tua Ora ve la caverete Sì Almeno per un po' Potremmo trasferirci in un luogo Ascolta Quando ci siamo conosciuti Mi hai chiesto dei minutemen Se c'è una cosa che facciamo sempre È aiutare gli amici Quindi Perfetto Mi hanno dato Una cella di fusione Penso serva per l'armatura Oppure una munizione per un'arma E adesso E ora cosa succederà Da tempo Mama Murphy Ha avuto una visione Su un luogo chiamato Sanctuary Un vecchio quartiere Perché non vieni con noi Cosa devo fare E cosa dovrei fare Dovrai restare forte Come lo sei ora Perché c'è altro nel tuo destino Il mio destino Doom destino Classico L'energia di tuo figlio È vivo Dov'è? Dov'è Sean Posso sentire la tua forza vitale Pezzino io non ho bisogno di una visione E mi ha detto che devi cercare Diamond City Sean è laggiù Solo sono stanca Le visioni potrebbero fornirmi Mi hanno già discusso Quella rompaccia ti ucciderà Va bene Scatola di forcine Ottimo Siamo messi un pochino Una merda Con 4M Ok Chissà se la matura funziona ancora Che bella Guarda qua Funzionerà Peccato L'energia esaurita È finita la pacchia Anche i mitragliatori A cannero tanti E vabbè ragazzi Dobbiamo lasciare l'armatura qui A marcire Che peccato Guardate qua che grande perdita Che devo indossare l'armatura Che peccato Psycho Effetto esaurito Ok cosa dobbiamo fare piccolo? Cioè piccolo Perché ho detto piccolo Oddio che bug Oh mamma mia Sono felice che sia morto Beh pure io Ragazzi a parte il bug mostruoso Penso di dover riavviare il gioco Cosa ci riserverà al futuro? Oltre ad aver ammazzato il Deathclaw Cosa dovremo fare? Madonna che bug mostruosi Un doppio saluto a Gianluca Grazie per avermi seguito E ci vediamo al prossimo video di Fallout E ci vediamo al prossimo video di Fallout E ci vediamo al prossimo video di Fallout E ci vediamo al prossimo video di Fallout